tutorial fare il rutto appena preso sui 80 di latte con molto gusto direi si prende e si iperestende delicatamente e si batte stava già dormendo quindi la stavo disturbando ma deve fare il rasturbamento bruttino se non sgotta primo tentativo è abortito non è andato al buon fine quindi la rimettiamo giù eccolo va grande al secondo tentativo fai il ruttino con latte di altro genere che non è il mellin ma è il umana digi digeribilità ricordiamo che la nana è nata venti giorni prima e quindi bisogna preservare il suo stomacchino guardate com'è figa ora quanto mi è tutorial ruttino andato